eccoci con due protagoniste anzi quattro protagonisti perché abbiamo ricordiamo sempre che gli atleti non sono soltanto i cavalieri di amazzoli ma sono anche i nostri amici cavalli abbiamo quattro protagonisti che hanno una caratteristica particolare perché i loro cavalli sono beatless giusto come è andata oggi fare un mini derby senza imboccatura perfetto quindi beatless si può non soltanto nel salto ma anche facendo i mini derby complimenti grazie ciao